Oggi analizziamo, almeno pensami, lo straordinario brano che Ron ha portato a Sanremo e incominciamo dal fraseggio iniziale. Quello che rende così particolari questi due accordi sono le tre note che sono Re, Fa e Do e poi questa transizione a Re, Mi e Do, ma con questo basso, basso di Sol, questo basso ci porterebbe a pensare di essere di fronte a un Sol minore settimo e poi di passare un Do nono. In realtà non è così, noi siamo in Do maggiore, pieno, quindi questo altro non è che un Re minore settima e a un Do Ad9, si chiama Ad9 nel senso con la nona aggiunta, si chiama nona aggiunta, al contrario della coda di Do nono normale, quando non abbiamo la settima minore ma abbiamo la quinta maggiore, cioè il Sol. E qua andremo subito sul La minore settima. Però c'è qualcosa che non ci torna in questo Sol. Così morto, così morto, così morto. Quindi non siamo da maggiore settima in realtà se andiamo sul Fa. Ma questo non è altro che un Fa maggiore settima, col basso di La. E minore con il suo primo rivolto con il basso di Sol lo potete fare anche qua Facendo questo barretto suonando il cantino ma io preferisco questo poi Sol nona perché abbiamo il La con il su sguarda Fossi morto tornerei per rivederlo al mattino quando esce manca una transizione qua sentiamo la mancanza di qualcosa infatti il passaggio al mattino quando esce avessi il mare Re, semi di mimita, in una mano e qua abbiamo il La minore settima se ne andremo là fino al punto di lontano almeno pensi Fa maggiore settima o Fa maggiore almeno pensi senza pensarci pensi Sol se settima col basso di Mi se stai lontano scrivi Re minore settima anche se ne sai male scrivimi molto interessante come continua con una progressione di accordi cromaticamente a scendere invece che a salire Se è troppo puglio chiama Prendi il telefono e parlami Gli è la notte Siamo qui A E' ancora più interessante quando l'orchestrazione sale all'inizio della strofa il brano si riempie e quando riprende quindi la strofa Invece che il C mette anche la settima maggiore Invece che Sentite come l'accordo è più pieno ci culla quasi Grazie 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 Grazie